preferisco la casa bruciata che quello lì dentro casa non ho parole ragazzi non ho parole è arrivato in ritardo di una settimana precisa il regalo del nostro primo anna dalvi è una scemata ma perché avevo detto ci siamo già fatti la settimana i due giorni nel centro benessere e quindi facciamo qualcosa entro poco entro 30 euro avevo detto quant'era bisogna mettergli un quadro quello però era fuori dai 30 euro mi piace dai era una cosa bellina aspetta fammi vedere come stampata della faccia dello stress ragazzi non sempre quando i cani fanno qualcosa che non devono sono stressati molto spesso sono semplicemente indisciplinati o annoiati e ivi probabilmente ieri si è indispettita che l'avessimo lasciata da sola ma deve imparare a stare da sola a casa e soprattutto era annoiata ma il problema è che fa talmente caldo che non ci viene nemmeno da farla giocare di giorno perché abbiamo paura che si surriscaldi non so come dirla in altro modo e soprattutto non è che abbia chissà quante energie per giocare lei si sveglia per mangiare guardate papà ivi papà mela niente ora non lo fa più e e poi basta a ora sia alla fine della fiera chi conosce meglio di tutti il proprio cane è colui che ci sta insieme tutto il giorno tecnicamente il padrone è brutto chiamarlo padrone perché non è che è mia proprietà ivi è la nostra piccolina è la nostra bimba non so come altro dirlo comunque quando c'erano richie giada non è che la facevano giocare di più di quello che la facciamo giocare noi perché comunque fa caldo e lei anche quando c'erano loro finché faceva caldo rimaneva possibilmente in camera con me quando non stavo tanto bene o da qualche altra parte sdraiata a dormire il momento in cui iniziava a sfogarsi era la sera quando arrivava un pochino più di fresco e ci giocavano esattamente quanto ci giochiamo noi adesso il problema è che ivi è dispettosa ed è maleducata e probabilmente anche un po viziata e questa in parte è colpa mia e in parte è anche il suo carattere perché comunque al di là di come educhi un cane un cane ha il suo carattere poi altra cosa ivi non ha quasi un anno ivi ha cinque mesi ancora quindi in realtà tutto quello che fa è possibilmente super comprensibile ieri non potevamo farla sfogare prima di uscire perché siamo usciti che erano le cinque del pomeriggio e c'erano ancora 7 mila gradi fuori se io prova a svegliare ora ivi per andare a giocare lei è la prima non volersi muovere ivi guarda guarda dai dai diamo dai giochiamo dai dai giochiamo che sforzo enorme sta facendo dai andiamo ivi dai di questi giorni magari la portiamo al parco insieme a kuma e gli facciamo fare il bagnetto che dici domani se abbiamo un po di tempo le mettiamo un po di telecamerine usciamo per finta di uscire e almeno se la accogliamo sul fatto la scriviamo la scriviamo con calma e sperando che impari la lezione vero mi è appena arrivato questo pacco penso di sapere già che cos'è praticamente ho scoperto che delle buste di te che avevo preso erano molto molto buone di quelle solubili tra virgolette quindi ho comprato una tannica da poter tenere in frigo invece di fare una bottiglia alla volta faccio una tannica da tipo 5 litri almeno dura un po provvederemo a sistemare oggi la zona streaming che devo andare in live oggi e probabilmente ricomincerò a streamare con un pochino meno di regolarità però intanto facciamoci la postazione anche perché al momento mi metto ancora ansia l'idea di ricominciare a streamare sono giù a sistemare mentre questo decide di fare ancora più disordine preparandosi una tannica di 5 litri di tè versandolo in giro ovunque per la cucina ha dovuto anche smontare il battiscopo in giro il battiscopo cos'hai combinato guardami prendi il noccio pixi sei stressata o sei birichina sei pixi o sei ivy ivy pixi è pixi ancora quindi continuerà a fare danni non ditelo a nessuno ma adesso è al sicuro in frigo poi basta tirarlo un po più fuori in realtà si può anche lasciare così alzando o abbassando questo dovrebbe uscire il tè è passata un'ora non è ancora fredda sicuramente ma voglio provare a vedere se funziona oh no e non viene più è morto devo aprire il tappino qua forse voglia che bomba non so non mi hai convinto voglio un po di tè no ciao alvi non mi parica no incredibile ma vero siamo riusciti a dare un minimo una sistemata al divano gli abbiamo dato una pulita più che altro per togliere un po di polvere abbiamo messo le luci dietro che fanno un bel effetto non mi dispiace abbiamo qui il kumirio 1 c'è in realtà questo è il kumirio 1 e questo è il kumirio 2 anche conosciuto come ivy o pixi o pixi abbiamo qui la fotocamera lì il pc cioè qui sulla tv il pc e adesso andiamo live sul suo canale vi ricordo che lei la trovate su twitch come gittola il mio è blink 46 e il loro è billy 46 ma non c'è un canale twitch amici di daily questa è la nostra faccia dopo i primi 10 minuti di dell'ultimo film di evangelion non stiamo capendo un tubo ma tu cosa stai facendo la brava cagnolina da esposizione io comunque ho guardato il film di evangelion il 3.0 più 1.01 e non ho capito niente io sto spremendo le mie meningi ci sto provando non ci riesco bellissimo non ci riesco e tra l'altro ho tantissima voglia di piangere saranno gli ormoni perché sono in quella fase del mese ma e ho anche pianto durante il film per diverse cose ma mi sento incompleta non so cosa stia facendo ma tipo si è messa cosa stavi facendo un ciampi niente non so cosa stessi facendo era messa in una posizione strana ma cosa stai facendo da sola portala qua vai ivy prendila ma cosa stai facendo vai a prendila vai ma sei impazzita e pollo ma sei impazzita no raga ma cosi prendi la pallina no distruggo la cuccia la giri così vai e adesso ti ci metti sopra ma si può sapere che paturni hai in questo momento secondo me ragazzi la turba il fatto che pigoli portala qua qua vieni adesso è sulla grata qua portala ah così funziona adesso cioè tu me la lanci vai rivolevi la tua cuccia eh rivolevi la tua cucetta ma perché la tutta ma secondo te l'hai ribaltata lei quando non hai prima non hai visto no è arrivata saltando sulla cuccia è iniziata a scuotere da destra sinistra ah ivy sai che le cose che ti piacciono le devi conservare con cura cioè ci devi giocare ma non le devi distruggere eh comunque vedete la sera è molto più attiva ma è normale si riesce a respirare visto che hai voglia di giocare è arrivato il momento di un nuovo gioco lo vuoi provare eh guarda proviamo gli e maya maya vieni qua che vuoi dire eh dobbiamo lanciarcelo no pronta vai quanto pesa quel robo vai bravissima quanto te lo porta felice pronta vai hai visto mhm oddio la si è uccisa ivy è mio quello quello lo puoi mangiare proprio tanto ivy quella fatta apposta per essere distrutto brava cioè magari non distruggiamolo però ti ci puoi sfogare un bel po' ho deciso di fare un salto al supermercato 24 ore e provare a portare ivy con il longboard ivy eh non ce la faceva più guarda adesso porto il cumirio a fare un giretto vieni come vieni ma non vede l'ora guarda 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 com'è contento come facevate questo inverno vieni vieni si meno 50 gradi con l'ongboard del cumirio vieni vieni qua no il vito resti qua allora a parte che io è entrata dentro la vasca si era messa a ululare per richiamare com'è alvi è la bravina dai che tornano presto ehi ehi comirino stanchetto ma soddisfatto aiuta guardate com'è felice alvi no per te no sei impazzito ragazzi alvi vuole no no è pericolosissimo ora dov'è vieni via vieni via no alvi bruci tutto no stai buona tu stai buona te sei scemo ragazzi ha carbonizzato un calabrone perché aveva paura ma te sei matto poi ti puoi dar fuoco alla casa non mi interessa preferisco la casa bruciata che quello bolli dentro casa non ho parole ragazzi non ho parole chi è in crisi di età probabilmente anche dovuta dal ciclo io io chi fa acquisti del cacchio probabilmente dovuti alla crisi d'età probabilmente dovuti anche al ciclo io io questo è il nuovo scam sentite che rumore fa e non è finita qui ma si può quanta speranza c'è nel mio cuore che questa cosa funzioni non ho